benvenuti su my football jersey quello che vedete è la versione player della prima maglia della germania dei prossimi europei che utilizzerà quindi nell'anno 2024 25 vi ricordo che la edizione versione player è quella più tecnica pensata indossata dai calciatori a 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 La maglia è molto bella, io ho un fascino, sono attratto molto dalle maglie della Germania, bianche, però i colori sono molto belli e come sono stati combinati questi secondo me fanno questa maglia una delle più belle sicuramente che vedremo ad Euro 2024. Il costo lo vedete molto basso, tempi di spedizione ottimi, tra l'altro vi ricordo che in descrizione trovate un link per un coupon da 3 dollari. Prima di lasciarvi la parte finale mi raccomando iscrivetevi al canale, è un piccolo gesto ma ci aiuta a farvi vedere maglie belle come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima!